Come Gesù, troveremo forse dell'indifferenza, o fratelli, e di conseguenza continuiamo. Il Vescovo Marco si fermerà sulla porta centrale. Il Vescovo Marco si fermerà sulla porta centrale. Il Vescovo Marco si fermerà sulla porta centrale. In questa sessione, pregheremo, meditando insieme alcuni momenti, alcuni passaggi, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai ridento il mondo, un breve testo biblico a un momento, proposto e animato dal coro, al quale tutti siamo invitati a unirci. Aiutati a non unirci a coloro che ne ridono i soldi. e lasciate unirci a farlo. Il Vescovo Marco si fermerà sulla porta centrale. Non agisci con violenza, ma non eviti il sacrificio. Il Vescovo Marco si fermerà sulla porta centrale. Il Vescovo Marco si fermerà sulla porta centrale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, tu non hai visto la corruzione, sei risorto e il dato spazio alla carne è trasformato del cuore di Dio, perché possiamo... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.